buongiorno e benvenuti nei nuovi mostri buongiorno sono entrata proprio nel mood delle ferie cioè sono in super iper rilassamento oggi è il 24 di dicembre e quindi passeremo vigilia natale assieme meglio che mi devono essere stimato sto finendo di far collezione buona la spremunta non vedo l'ora che arrivi questa sera perché verranno qua mamma papà mia sorella mio cognato e festeggeremo la vigilia assieme quindi per la prima volta dopo tanto tempo passeremo la vigilia assieme e quindi si sono troppo contenta adesso dobbiamo fare 250.000 cose io mi devo ancora svegliare sono le 9 un quarto ciao amore che arriva stasera ma come milano che arriva stasera babbo natale cosa ti porta caramele due caramele ti porta ma secondo me ti porta anche qualcos'altro sai ehi ciao buongiorno buongiorno signorina e lei babbo natale cosa le porta stasera ma scusa mi scusi cosa sta facendo cosa sta facendo quello stai facendo hai voglia di coccole hai voglia di coccole amore e sei la mia vecchia rete perché arriva babbo natale stasera sai anche per te anche per te arriva babbo natale buongiorno sei la mia vecchia rete è Cioè, guardate cosa ho in testa. Bella. Cioè, voglio mica di fare tante cose. Ma devo fare mille cose. E... Devo fare anche un altro live su Paris. Ma mi sa che oggi non è... Cioè, non è che devo. O voglia. Però mi sa che oggi non è proprio la giornata. Scusate, continuo a sbagliare. Ho dormito tipo 12 ore, ma... Signorina. Può andare giù dal divano, lei? Eh? Cosa bomba? Cosa fai, lì, ti ho detto. Cosa fai qua? Eh? Guarda che nel film che abbiamo guardato l'altra sera. Era otto cani da salvare. I cani stavano fuori sotto la neve. Stai, vecchio Jack. Oh, con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai? Non sei d'accordo? Non sei d'accordo? Piccolo buio muschiato. Oh, tanti coccoli lei vuole. Tanti coccoli vuole. Vuole le coccoli. Vuole le coccoli. Oh, facciamo vedere a tutti le grazie. Facciamo vedere a tutti le grazie. Sì, tanto la mamma riesca a fare butta a lavare il divano. Lo buttiamo proprio in lavatrice, va bene? Ma tu dopo stai giù. Hai capito? Hai capito che dopo stai giù? Hai scarpe te nuove? Mamma, batte tutto. Mascia e orso, sì. Ma funzionano più o sì? Sì, funzionano ancora. Mamma, batte. Batti te? No, batte te, mamma. Batti te. Quando vedo il schermo. Batti te. Bene, trucco veloce. Adesso andiamo a prendere le cose che mancano. Sto controllando che tutto sia spento. Ale sta facendo danni. E il papà grida. Adesso pensi di farla di corsa fino alla coppa? Ah, come ieri. Dove è andato il poppa? E' andato via. E' andato via. Si è nascosto. Si è nascosto. Si è nascosto. Poppa? Andiamo! Andiamo qui! No, no, dai Ale. Andiamo qui! Andiamo qui! Guarda nel parcheggio. E' che ci sono le macchine. Il parcheggio. Dai! Dove vai? Dobbiamo andare là? Dove è là? No, non vai di là. Andiamo di là. Dove è di là? Ciao! Andiamo noi? No, mamma. Questo colore qua mi fa impazzire. E' proprio arrivato Babbo Natale. Beh, Brighali, non potete capire le scene. Allora, avete visto, siamo andati alla coppa a prendere tre cose. Ho visto il corriere arrivare da in cima alla strada e l'ho fatta tutta di corsa con la borsa della spesa. Però questo corriere è troppo carino perché se non mi trova a casa mi lascia il pacco nel box auto. Però io l'ho visto arrivare e ho detto, mannaggia, quello là mi scappa, va via e non va bene. E quindi ho fatto le piste. E adesso sto andando a cercare una tovaglia per questa sera perché appunto abbiamo i miei... Continuo a guardare di là. Abbiamo i miei... Ho la mia famiglia a cena. Abbiamo la mia famiglia a cena. Però non ho una tovaglia che vada bene per tutto il tavolo aperto. Quindi devo andare assolutamente a cercare una tovaglia. Tovaglie. Tovaglia. Questa è bella. E anche questa è carina. Che belli. Ok, fatto. Adesso andiamo a casa. Ci avviamo. Mi sa che Manuel ha già iniziato a fare il pranzo. Forse... Ma perché sti capelli da pazza? Tanto oggi pomeriggio quando ho finito di fare pulizia devo sistemarmi, lavarmi. Quindi... Via che andiamo! Cosa stai preparando? Tu cosa stai facendo? Metti giù. Metti giù il tavolo. Su a posto. Cosa vuoi? La pasta. La pasta. Con cosa? Dio, guarda la pasta. La mamma la deve tagliare, sai Ale. Metti sulla bavaglia. Mettila su dai. Non sei capace da solo, Trelina. Prova. Ecco a posto. Mangi così, Ale. Mangi così. Stai facendo casino. Mangia col cucchiaio. No. No con le mani. No. Guarda che non viene neanche Babbo Natale. No. Gli lo dico io di non portarti neanche le caramelle. No. Depende quindi l'ora vi porto. Cos'è che vuoi? L'ora è qui, no. Cos'è che vuoi? Ma qui ne lo... Natto saluta animale. Saluta chi? Saluta le brighelle. Già. Tutti che beve. Potete... Sentitevi libere di insultarlo quanto volete. Cos'è che vuoi? Un tartufino. E te lo meriti un tartufino? Tutta, non so me lo merito. Amore. Chi è che ha fatto da mangiare oggi? Amore. Chi è che ha preparato a lavare questi video? Amore. Chi è che prepara da mangiare questa sera? Chi è che prepara da mangiare? Chi è che pulisce la casa? Chi è che ti lava le mutande e te le stira? Eh? Chi? Vai a prendere i tartufini. Ok, vado a prenderli io. No, non ci provare. Eh, i tartufini sono miei. Ma sono il mio regale di Natale. Mettici i tartufini. Dammi, dammi. Dammi i tartufini. I tartufini. Chi è che vuole un tartufino? E poi abbiamo anche... Chi vuole un tartufino? L'indor. Chi vuole un tartufino? No. Non vanno di l'amore, che sono sciolti? Che schifo. Siamo a tavola e Emanuel ha uno di quei suoi momenti di intelligenza assurda. ha provato i miei occhiali e gli ho detto, amore, no, a mettere i miei occhiali. Che ti fa male agli occhi? Perché a me hanno sempre detto così. Per favore, dite anche voi a Emanuel che se mette gli occhiali, anche se ci vede bene, gli fa male agli occhi e spiegate soprattutto il perché. Perché Emanuel ha questa sua teoria. Allora, adesso lo spiega. Vediamo. Ale, aspetta che papà ci deve insegnare una cosa. Spiega perché. Non ti spiego niente. Spiega. Te l'ho già spiegato. Guarda che chiamo Babbo Natale. Chiamo Babbo Natale. Dici che vengo qua con un oculista a spiegarmi per quale motivo mi fa male mettere sugli occhiali. Avanti. Dammi gli occhiali. Mi vedi? Sì. A fuoco. A fuoco. Come mai mi vedi a fuoco? Anche se ho messo gli occhiali davanti lì? Perché il mio telefono ha l'autofocus. Ah, mi vedi? Sì. Ma a fuoco? Sì. Come mai? Ah, come mai mi vedi a fuoco? Spiega. No, fermo. Dammi qua. Spiega. Mi vedi? Sto bene? Sì. Non ci vedi male adesso? Babbo Natale. Un po' più peggio di prima ci vedi. Un po' più peggio? Sì. E perché ci vedi un po' più peggio? Perché il mio occhio lavora in una maniera che funziona non come il tuo. Babbo Natale. Ho bisogno di avere le lente davanti per vederci. Comunque se io metto la testa così ci vedo bene lo stesso. Vuol dire che hai problemi di vista allora e non sapevi di averli. No, io non ho problemi di vista. Spiega, spiega perché. Perché non fa male? Perché quando io tolgo gli occhiali le lenti dell'occhio ritorno a dove erano e ci vedo bene un'altra volta. Babbo Natale. Non è che rimangono dove sono quando sono adesso. Dammi gli occhiali per piacere che non lo vedo. Dammi. E ora? Eh non lo fa più. Babbo Natale. Por che hai fatto? Ca' pu' tu hai il caffè. Che tecnolica lazım? Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Babbo Natale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qua c'è il mio, il nostro preseppino, i nostri preseppini. Qui c'è il brucio essenzio delle Yankee Candle con Angel Wings. C'è in inglese, Yankee Candle con Angel Wings. E questo è arrivato oggi, è bellissimo, io lo adoro. Mi hanno chiuso fuori. Ale, aiuto! Vai, vai a liberare la mamma. Aiuto! Aiuto! Chi è l'amore? Chi c'è? Qui è quello là? Babbo Natale. E cosa fa Babbo Natale? È seduto. Adesso portiamo il pensierino alla nostra vicina. Forte che pesa, dai andiamo nell'angelina. Bene, adesso Manuel mette sullo spezzatino per stasera. Qua abbiamo già la verdura cotta. Peccia. Ok. E qua metteremo lo spezzatino. Bene, anche il bagnetto è a posto. Ma guardate, cioè vi prego, guardate la mia vasca porta saponetta. Quanto belle è. Adesso sto pulendo la camera, io. Guardavolo. Emo vedere qua com'è. La situation del spezzatino. Profondino. La carne è dissorana. Cioè è nostra, ma è dissorana. Guardate che belle me le ha portate a casa mia sorella. Bene, non me le farei vendita. Bene, anche la cameretta è a posto. Direi molto bene. Adesso non ci resta che prepararsi. O a posto. Sì, per quello che può essere a posto, è a posto. Cioè io adoro questo copriletto. Cosa c'è? Bene, io le pulizie di Pasqua le faccio a Natale. E niente, tutto a posto, a parte questa faccia. E quindi adesso che ho sistemato tutto, vado a levarmi e a prepararmi per stasera. Masterchef. Questa può fare tanta pimpin. No, pimpin. Ma non è una mattina, no, pimpin. E niente. Che le rene, le avevo una taine, fai niente in confronto. Focaccia. Il profumo è buono. Sì. Bravo, bravo, amore, bravo. Le ha un pelle intrappolato. Ma bella. Ah, non si vede. Ciao, Alberto. Ciao, Alberto. Ciao, Alberto. Ciao, Alberto. Chi è? Vuoi che sia Babbo Natale? Babbo Natale. Ciao. Andi. Ciao. 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 Che è un amico. No, no, Dio mio, non ti. Mi sono. Fa la matrona. Ciao. 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 Porta, porta, porta. E io non ti ho fatto. 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 E' appena passato, l'ho visto passato. Più tardi arriva anche qua. Chiamalo, chiamalo. Natale! Senti! No, non era Vavo Natale. No, non era Vavo Natale. Tornato! Tornato, arriva, arriva. Che stai scrivendo, amore? E' notta. Letterine Vavo Natale, dici. Vedete poi i squaccia dopo qua manegate sui? Sì, io. Signale, io andrò. No. Spuoi a prendere così. No, 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 no. Che va? Guarda, guarda, guarda. Guarda che ti ha lasciato il caramello. Guarda, fino a bito. Ti ha lasciato il caramello? Guarda, lo so che è passato. Guarda! Ehi, guarda. Cosa c'è là? Cosa ti ha portato là? I caramelli. I caramelli. I caramelli? I caramelli? E nelle scatolette là? Cosa c'è? I caramelli. E là cosa c'è? E là? Di chi è quelle cose? Perale! Apri! Dammi qua le caramelli. Guarda che te li ha portati i Vavo Natale e quelle viene. Apri dai! Apri i regali, amore. Apri! Apri! Cosa c'è dentro? Papà li apri. Vieni qua che li apriamo insieme. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Apri! Per l'indirale tu che torno dopo. Vieni qua. Vieni qua! Cos'è? Mi inghi! Spingi! Chi è che fuori per se non stacca una lua, è un po' di là. Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! T'ho mai inculito io! No! Cosa c'è l'indulì? Cosa c'è l'indulì? Cosa c'è? Sì! Terno! Eh! Cosa c'è? Un treno! Un treno! ma perchè? io te no ma te l'ha portato Babbo? aprilo dai no no aprilo te ma perchè Babbo va no aprila qua tira forte spingi 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 dio mio cos'è? cos'è? cagno di chi? nonno di chi è? cagno è diverso che bello togli tutta la carta qua guarda qua la carta togli entiopoli non interessa niente ma qua ruspa Babbo guarda guarda se guardi tu guarda l'ho scritto su un altro vedete? ma vedi tu sembra da me è questo? questo è un casino allo Ale tira te lo apro io così dopo che hai mai dietro la manina tieni aprilo dentro qua la manina tira avanti tira avanti dai la mamma amore scotch dai la mamma amore dai la mamma amore scotch guarda 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 lì guarda 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 il nostro non lo vado adesso guarda c'è un altro in Ale guarda eccolo quello amore guarda quello di Asia gliel'ha portato Babbo Natale e le zie per te grazie che bella camicia metto su io questa e dopo? perché non mamma che bello giochi giro no ma col bottone giochi Giuda, vieni a vedere qua Scusa, indira Siti, Siti Va via, gioca con i tuoi giochi Tieni, tieni, tieni amore Che ne vuoi? Tieni amore E di la duda, lasciala giocare Oh, ecco Non c'è pa mia perché sa l'autotetrica Buon Natale Sono meno dieci all'una Siamo distrutti Alessandro sta ancora giocando Non sta fermo un attimo Infatti abbiamo chiamato Babbo Natale E gli abbiamo detto di passare prima A portargli i regali perché aveva sonno E adesso non dorme Non dorme Andiamo a letto amore No Come no? Vuoi giocare con i giochi Giocare con i giochi Ma domani Basta È l'una Devi andare a fare le linee No Sì No, vuoi giocare con i giochi Dopo Domani giochiamo con tutti i giochi No Sì E finiamo anche di sistemare qua Di buonanotte Di buonanotte Brighetti No Buonanotte No Come no Ma Peste Buonanotte 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 Tanti auguri Buonanotte Tanti ui La tanti ui E la tanti ui Tanti ui Tanti ui Tanti ui Tanti ui